Ciao a tutti, oggi vediamo come scegliere il miglior olio al supermercato. Quando andiamo allo scaffale degli oli al supermercato abbiamo una vastissima scelta. Non è facile scegliere il miglior olio, ovviamente il mio consiglio è quello di scegliere un olio proveniente da piccola azienda agricola e poiché sono oli genuini, sani, che hanno comunque sia dei profumi gradevoli, intensi. È bene un pochino anche affidarsi ai concorsi e ai premi che hanno vinto questi oli che ritroviamo negli scaffali. Uno dei nostri oli dell'azienda agricola Locci che è presente nello scaffale del supermercato è il nostro monocultivar San Felice che nel 2020 è riuscito a ricevere le tre foglie del gambero rosso. Quindi quando andremo a scegliere una bottiglia di olio dallo scaffale del supermercato dobbiamo tenere conto di questi dettagli e fare una piccola anche analisi a casa di quello che sarà l'acquisto. Da Lorenzo è tutto, al prossimo video, ciao!